Oggi ci andremo ad aprire circa 50 euro di bustine Pokémon, precisamente sono le buste premium della terza serie e della seconda serie Play Pokémon che potete trovare solo giocando i tornei ufficiali. Si possono trovare all'interno di queste bustine delle carte molto molto interessanti come questo Ghiratina V con il logo Play Pokémon e questo Palchia originale Viastro sempre con il loghino Play Pokémon. Direi che possiamo partire, partirei con questo pacchettino della seconda serie, vediamo cosa riusciamo a pullare, se non ricordo male il trick è da 1 e abbiamo Energy Oscurità, Laburno, Trolley di Salvataggio, Octillery, Level Ball Olo e un Malamar Olo. Passiamo al secondo pacchettino, vi ricordo che appunto il valore di queste bustine era complessivamente di circa 50 euro, qui vi lascio il codice. Vediamo cosa riusciamo effettivamente a recuperare tra virgolette di questa spesa. Energy Alampo, Frullato Energizzante, un bellissimo Fleffy di Evoluzioni Etere, questo Latias è di Colpofusione, poi abbiamo un Menafi Olo e sotto... uh attenzione una Vimax, una Vimax ed è un bellissimo Glesion Vimax, veramente stupendo. Quindi primo pull per noi, se non erro questa non l'ho mai trovata, sono sicuro di aver trovato il Vaporeon ma il Glesion no. Passiamo adesso alle quattro bustine della terza serie, queste non le ho mai bustate ragazzi, quindi non ho la più pallida idea di che cosa si possa trovare. Ho visto dai Pokémon presenti sopra la bustina che probabilmente si possono trovare di Alga, Palchia e Arceus. Sempre trick da uno, Energia Lampo, Esperimento di Acromio, Palude Bocca Larga, ditto bellissimo. Questo qui è di Zenith Regal... Uh attenzione, non so cosa ci sia sotto, ma direi... una trainer, credo. Uh una bellissima trainer con la Cosmo Olo, vedete questa olografia molto molto particolare, stupenda ricerca accademica e... un Energia Lampo sempre con la Cosmo Olo. Sono pazzesche queste olografiche. Passiamo al secondo pacchettino di queste buste premio della terza serie. Ok, il codice è sempre per voi da riscattare online. Facciamo il trick da uno e abbiamo Energia Ombra, Benda Sfida, Foglia Poncio Mimetico, Archeops, Portale Miraggio con la Cosmo Olo ed una Piuma Ball, che è stata tagliata veramente malissimo. Come potete vedere, all'interno delle bustine della terza serie possiamo trovare sia le carte dei set di Scarlatto Violetto, come questa Benda Sfida, che le carte dei set di Spada e Scudo, come questo Archeops raro. Procediamo con il penultimo pacchettino. Codice sempre per voi, trick da uno e abbiamo Energia Fuoco, speriamo che sia di buon auspicio, Piuma Ball, scambio, Sigillo Celeste, una Colonia di Annullamento Olo ed un Pepe con questa Olografia particolare. Ultimo pacchettino per questo spacchettamento. Speriamo di avere un pool grosso questa volta. Il codicino per voi. Facciamo il trick da uno e abbiamo Energia Psico, Bacino di Magma, Premura di Komor, Ordini del Capo, U1, Minor Ball e attenzione perché sotto ci dovrebbe essere qualcosa. Un bellissimo Gudra di Isui V con il simbolino Play Pokémon. Veramente stupendo. Ok, su sei pacchettini abbiamo trovato questi due pool, quindi un bellissimo Glession V-Max e un Gudra di Isui V e poi tante olografiche con questa Olografia molto particolare che a me piace veramente un sacco. Guardate l'energia è semplicemente qualcosa di devastante. Vi ricordo che potete trovare queste carte singole all'interno del nostro sito. Il link, come sempre, lo trovate sul profilo. Ciao!